ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come reazione a catena è diventato il programma di marco liorni il quale è stato confermato alla guida del game show di rai 1 che si conferma un amato format televisivo visti gli ascolti tv raggiunti la programmazione del primo canale ancora una volta punta sugli orni che ha preso nuovamente in mano le redini del programma che nella nuova edizione prevede dei cambiamenti importanti tra cui il suo prolungamento fino all'inizio dell'autunno come la passata stagione in base a quest'indiscrezione reazione a catena potrebbe non solo andare in onda per diversi mesi ma addirittura prolungarsi fino al mese di dicembre per poi lasciare spazio all'eredità che vedrà fino in segno alla sua guida per la prima volta marco liorni conquistando il prime time ha dimostrato di essere il conduttore ideale del format dopo amadeus che prima di lui ha avuto l'onore e l'onere di condurre il game show nel prime time di rai 1 grosse novità per reazione a catena marco liorni in onda in prima serata marco liorni quindi avrà una grossa responsabilità con la sua conduzione del popolare game dovrà mantenere alto l'interesse del pubblico anche attraverso un impegno più dispendioso condurre qualche prima serata anche in questo caso si tratta di voci di corridoio da confermare secondo le ultime indiscrezioni si prevedono delle puntate speciali serali cosa già accaduta qualche anno fa quando a condurre il format era amadeus si prevedono i due appuntamenti serali con reazione a catena l'intesa vincente che va ormai in onda da 15 anni la prima puntata risale al 2 luglio 2007 per il 30 settembre ed il 7 ottobre ma per il momento si deve attendere l'ufficialità con la presentazione del nuovo palinsesto televisivo della rai fissata per il prossimo 7 luglio grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video notizie ciao notizie ciao notizie ciao notizie ciao notizieçi ciao notizie ciao notizie notizie